Ciao! Ciao! Ciao bambini! Allora, nel libro di oggi si racconta la storia di questa mamma foca che col suo cucciolo deve abbandonare lo scoglio dove abitava. Però c'è una sorpresa. Questo libro è speciale perché prima si incomincia da qua, si legge così e finisce qua. Ma poi ricomincia da questa parte e si legge e c'è una storia diversa. Non c'è posto per tutti. Un posto per tutti non c'è. Ed è sciocco ripetere che c'è spazio, si entra, ci stiamo. Ciò! Non ti vogliamo! Non potremo dirti mai! Benvenuta tu e i tuoi cari! Questo scoglio è nostro, sai! Puoi tornartene ai tuoi mari! In nessun modo, ora, sarà tua la casa mia! Non puoi restare ancora! Devi proprio andare via! È così chiaro ormai! Voltati adesso! Vai! Non c'è posto? Veramente! Leggiamo alla rovescia adesso! Risaliamo la corrente! Pronti? Voltati adesso! Vai! È così chiaro ormai! È così chiaro ormai! Devi proprio andare via! Non puoi restare ancora! Sarà tua la casa mia! È così chiaro ormai! E in nessun modo, ora, puoi tornartene ai tuoi mari! Questo scoglio è nostro, sai! Benvenuta tu e i tuoi cari! Non potremo dirti mai! Sciò! Non ti vogliamo! C'è spazio! Si entra! Ci stiamo! Ed è sciocco Ripetere Che un posto per tutti Non c'è E non c'è Ciao bambini! Ci vediamo la prossima volta! Un saluto librilloso! Ciao! Ciao! Ciao!